Si trova in via Teresina, a fianco del corpo monumentale dedicato alle cure intermedie e riabilitative, noto come Kennedy, il reparto che ospiterà, da questa settimana, i pazienti convalescenti Covid dimessi dagli ospedali. Il padiglione San Gabriele è separato con ingresso indipendente e vi opererà personale sanitario completamente dedicato per scongiurare eventuali contagi con i degenti del Kennedy. Una ventina è posti letto per ora. Le stanze sono composte da due postazioni con utilizzo del bagno, spazi adeguati e tutta l'attrezzatura necessaria per la riabilitazione dei pazienti Covid. La squadra degli operatori sanitari è già pronta, composta da diverse figure. C'è Rosangela, fisiatra, Mara, l'infermiera, Alessandra, coordinatrice infermieristica, Cristina, coordinatrice di reparto e Damiano, il fisioterapista. Una piccola task force, esempio di come opererà tutto il personale sanitario. Vediamo che i pazienti che dovrebbero arrivare avranno sicuramente bisogno di riattivazione sia motoria che respiratoria, per cui ci siamo già attrezzati per affrontare questa nuova sfida, questo nuovo impegno. Allora, questo qua è l'erogatore dell'ossigeno. Quando il paziente avrà sicuramente bisogno dell'ossigeno viene regolato in base alla saturazione che ha. Una scelta è quella di dedicare un reparto del Kenne dei pazienti convalescenti Covid, criticata e contestata da molti cittadini, ma portata avanti ci tengono a sottolineare i vertici della fondazione, con coraggio e determinazione, anche perché supportati da tutto il personale che vi lavora, dalla dirigenza ai medici e infermieri. Questo potremo farlo sicuramente in accordo con la centrale unica regionale, che è questo organismo che è appena stato istituito dall'8 di marzo, dal 9 di marzo, in cui la regione Lombardia ha deliberato questa DGR, questa delibera, con la quale appunto questo organismo dovrebbe proprio fare da raccordo tra gli ospedali e tutte le strutture, come la nostra, di cure extra ospedaliere, che sono cure estensive, praticamente proprio finalizzate al recupero fisico e naturalmente respiratorio dei degenti. Con la delibera regionale citata dalla Presidente dell'8 di marzo, la regione Lombardia dispone la chiusura di ricoveri dal territorio, dimissioni di chi era in fase di riabilitazione e di conseguenza destinazione di questi posti alla riabilitazione estensiva, che è un particolare non da poco, dell'utenza Covid e dei nuovi ospiti.